I carabinieri forestali hanno bloccato un'esercitazione di tiro a bersaglio in una cava di smessa. Alla fine dell'operazione ci sono stati due denunciati e due pistole sequestrate, perché la cava in questione non aveva tutte le autorizzazioni per diventare poligono di tiro. È accaduto domenica scorsa, quando turisti in visita al sito archeologico dell'Anfiteatro Romano di Amiternum hanno sentito diversi colpi d'arma da fuoco e hanno allertato 112. I carabinieri forestali di torno in parte sono così intervenuti per un sopralluogo e dopo aver percorso pochi metri di strada sterrata hanno raggiunto l'area della vecchia cava abbandonata, dove era in corso un'esercitazione di tiro al bersaglio da parte di due persone che sono state denunciate e che si dichiaravano essere membri di un'associazione sportiva che usava il poligolo in forma privata. Dalle indagini effettuate i carabinieri forestali hanno verificato che i soggetti non erano in grado di fornire altre notizie sull'associazione di cui dicevano di essere membri, ne fornivano l'elenco dei soci. Tra l'altro non avevano anche la licenza delle autorità locale di pubblica sicurezza né il regolamento dell'esercizio del poligono da cui potere vincere chi fosse designato quale direttore di tiro e responsabile del campo, figure necessarie, come è noto, all'attività di tiro in poligono. I militari così hanno proceduto al sequestro delle armi, due pistole Glock e al porto di fucile per uso sportivo dei due tiratori che hanno denunciato all'autorità giudiziaria.